Cosa vuoi ricevere di 6xp? Se in questo video lo vuoi ricevere 5 stadi per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like In questo momento si vuoi ricevere anche tu tanti di 6xp Beh mi raccomando ma prima utilizza il codice Coding Gamerci 182 così riceverai Pxp mi supporterai e farò altri video del genere Quindi andiamo su codice di 6xp e mettiamo questo codice Quindi mettiamo 94073686 Ok poi 3, 9, 1, 2 Ok prima vi invio la versione dovrebbe essere 38 Per la partita di essere pubblica mi riparte perché se no i glitch non andrà Ok ora abbiamo una partita Perfetto ora che si sarà avviata non devo fare nient'altro che aspettare questi 10 minuti Qui dove si troverà il timer Nel frattempo dove verrà aspettato 10 secondi potete già fare questo tetra nel ricevere qualche xp Vete fare dei patch notes esattamente e qua capiterà anche altri xp Beh raga capiterà 1000 xp ogni volta che lo fate Guardate vado qui premiamo read patch notes Faccio ok e 1000 xp Ok perfetto raga il boom che si è aperto sono passati 10 minuti Ora qui andiamo a mettere il codice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Poi andiamo a mettere 1, 2, 3 E poi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Perfetto andiamo a premere qui il pulsante click Andiamo ancora più a destra andiamo a premere il pulsante secret room E ci porterà esattamente in questa stanza Perfetto raga non dobbiamo fare altro che andare qui dove ci saranno queste scale Quindi raga avremo diciamo un primo piano Vi spiego meglio dove troveremo questa parte qui E poi un secondo Andiamo esattamente a questo qua e andiamo a premere il pulsante secret xp ci porterà fin qua e ci sarà a dare tantissimi xp da come state vedendo Ecco qua raga sono davvero tanti Nel frattempo ora andiamo di nuovo nella secret room Intanto raga ecco qua siamo arrivati fino a fare un livello e mezzo Ok perfetto ora raga dobbiamo fare una cosa più particolare Non dobbiamo andare sopra ma dobbiamo andare esattamente qui dietro Quindi dobbiamo percorrere tutta questa zona raga Andiamo fin qua ancora 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 Fin quando arriveremo qui dietro raga qua vicino dobbiamo trovare il pulsante secret xp Perfetto ci porterà qua e ci sarà a dare altri tantissimi xp da come state vedendo Mi raccomando raga questa è la mia mappa da fare Mi raccomando codice coding gamer 5802 Ora siamo arrivati già a quasi 100.000 xp Ma raga non è finita qui quindi possiamo ritornare nella secret room Intanto abbiamo fatto un livello e mezzo Perfetto raga ora dobbiamo ritornare esattamente qui sopra Dobbiamo andare esattamente dove eravamo prima Quindi qui sopra Ma questa volta raga andiamo qui Alziamo la visuale Quindi in questo punto troveremo il pulsante secret xp Ci porterà qua e ci sarà a dare altri tantissimi xp Mi raccomando abbonati al canale Anche ora 99 centesimi Se ti abbonerai ti farò vedere un video dove riceverai ancora più xp Grazie a questa mappa Ciao ragazzi Bye